Buonasera, abbiamo subito la testa di Giuseppe Carbone, seguito da Giuseppe Treppe, è un po' più indietro, è vicino. Vediamo che sono quattro i ciri, sempre Carbone, è subito indietro, è Giuseppe Treppe, molto più staccato, è vicino. Accendono la finale di P3V2, è niente. Un po' più indietro. 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 Ora, per questa prima parte del grattemio del Gran Maestro. Quindi arrivo con Giuseppe Poggi, Giuseppe Poggi, Giuseppe Poggi.